Con il mese di giugno entra dal vivo la stagione estiva dell'aeroporto delle Fruglie Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari. L'orario è stagionale, iniziato con l'ingresso dell'ora legale, ma a partire da questo mese prenderanno al via una serie di collegamenti specificatamente presenti per le vacanze. Ai collegamenti già attivi per Alghero, Cagliari, Barcellona, Bari, Trapani e Valencia, operati da Ryanair, e quello per Catania, offerto dall'Italia, si è aggiunto dal 31 maggio il volo diretto per Palermo, riproposto anche per l'estate 2013 da Volotea. Dal 29 giugno avranno poi iniziati i voli diretti per Olbi, operati dall'Italia. Per quanto riguarda i voli dedicati ai vacanzieri, dal 15 giugno avranno iniziati i voli diretti per le isole greche di Kos e Samos, organizzati dal tour operator Tristino-Iulia Viaggi. Grazie a questi collegamenti sarà possibile raggiungere in poco più di due ore affascinanti destinazioni greche affacciate sulla costa turca. Sempre al prossimo mese di giugno entrerà dal vivo l'attività in e-coming della Russia e dall'Estonia con voli da Mosca, Pern e Tallinn. Saranno quattro i collegamenti settimanali da questo paese che porteranno in regioni turisti russi ed estoni.